E tra l'altro una cosa di cui stanno parlando pochissimi è il sistema delle inclinazioni, cioè voglio vedere se è diventato più complesso, nel primo pure era una di quelle cose ben strutturate perché loro c'avevano mi pare 7 o 9, ma non mi viene, allineamenti di cui c'avevano i 3 main in base a dove erano posizionati cambiavano proprio radicalmente le IA e quella è una roba che nel primo molte persone hanno scornato ma era una delle cose più belle, Cioè il fatto che la pedina si adattasse a te, cioè vedeva che magari tu eri il mago quindi si imparava o a starti vicino o se stavi bene per cazzi tua ad andare nel fight perché ti vedeva che stavi bene da solo, era una figata ma l'avete visto proprio con me durante la serie no? Io che avevo Oga appena appena startata e mi sono portato un altro guerriero più esperto e lei letteralmente in 3-4 minuti cominciava a copiare azioni dell'altra pedina guerriero, è una figata perché non è una cosa che tu te sogni, è quello il figo, non è una cosa che tu te sogni, non è che io mi sto a immaginare che Oga impara dall'altra pedina, no! Perché se vede la pedina che visto che il goblin è piccolino lo grabba e ti fa fare un critico, Oga la mia pedina dice porca puttana sta cosa worka, porca puttana sta cosa worka o ti vede che dai fuoco e dice porca Arisen usa il fuoco o quando stavamo contro il golem con le medaglie magiche che era la prima volta che lo affrontavamo sono stati 10 minuti a girargli attorno a non fa un cazzo, poi io letteralmente mi sono arrampicato ho fatto qua, ho fatto tuk tuk sulla medaglia e loro hanno fatto oh porca puttana è debole lì e sono andati lì. Cioè differenziamo la merda dal cioccolato perché quando una cosa si vede che è strutturata per workare in un determinato modo, cazzo non è casuale, è perché è strutturata per workare in quel modo, poi ho visto persone che hanno detto che la roba delle inclinazioni della pedina era la cosa più brutta, ma che cazzo dici? Poi per carità la si entra sempre anche molto nel discorso secondo me che tu devi anche voler dare qualcosa al gioco, cioè se tu ti apri un gioco e cominci a fare ah che palle, ah non mi piace, che rottura di coglioni qua, il gioco non ti darà mai qualcosa che ti piace. Cioè ti ci devi anche mettere un attimo tu dietro a capire come worka il gioco, cosa ti può offrire il gioco, perché se tanto tu all'interno di un gioco cerchi una determinata cosa ma quel gioco ti ha detto bro non te la posso da, non sta qua, eh che cazzo giochi a fare? Tu devi anche un attimo capire come adesso io per esempio con Armor Core, Armor Core mi ha tirato due schiaffoni, io invece ci sono messo un attimo dietro a capire che cazzo come gira il gioco ed è cambiato totalmente il mood. E stessa cosa era su Dragon's Dog, ma se tu ti mettevi un attimo a capire come funzionava il sistema delle pedine, alla fine tu ti ritrovavi come io con Oga, che Oga era la mia cazzo di ombra. Ve la ricordate Oga Endgame? Era la mia cazzo di ombra, non mi dava un cazzo di buco aperto. Se c'era qualcuno lo sventrava, si caricava il boss, mi parava il culo, andava in combo con me, mi faceva i follow up perfetti, cioè che gli alzavo le persone e lei li smashava per terra. Cioè si crea quella sinergia di gameplay e tra l'altro questo solo tra due persone, cioè tra te la pedina, se siete in quattro, porca troia! Se fai un bel party è divertente da giocare, è divertente avere il cazzo di guerriero che ti butta in alto i nemici con l'arciere che li snipera e li shotta al volo, perché fai il critico mentre stai in volo. Sai quanti canali ho girato che giocavano ad Armored e piangevano? Bro, lascia stare. Ma il fatto è che non è che tanto lasciare stare, si ritorna sempre lì, a quello che ho appena detto poco fa. Cioè tu, che cazzo vuoi dal gioco? Cioè se tu vuoi giocare un gioco che ti mette letteralmente il dito su qualsiasi cazzo di cosa che devi fare e ti accompagna con la manina, vai a giocare un MMO di merda. Poi gli MMO, non è che sono così semplici, però inteso, se tu non dai qualcosa in input al gioco, se tu non vuoi andare un attimo a braccetto col gioco, che cazzo vuoi? Ed è per questo anche io per esempio che mi sto trattenendo molto a giocare a Starfield, perché io so che all'interno di Starfield non troverò quello che voglio. Come dica, a me mi fa cagare FIFA e vado a giocare a FIFA. È ovvio che non mi ci troverò bene su FIFA, mi fa cagare FIFA. Che devo fare? Poi, se uno invece a FIFA, nonostante non gli piaccia, o è un attimo dubbioso come sono stato io con Armored Core, se mi mette là, mo non so che cazzo ci sta su FIFA, ragazzi. Ho messo un gioco a cazzo. Facciamo un esempio, Forza Motorsport, che è già qualcosa di macchina. Se io entro nel gioco che faccio, come ne so, le mie prime gare faccio una merda, però poi mi metto lì dietro un attimo a capire. Ah, ok, così si cambiano le marce, come ti devi gestire le curve, come puoi fare per farti il tempo migliore, come gestirti la visita, quello diventa una figata. Tu poi apprezzi anche molto di più il gioco, perché non è semplicemente tu che vai dritto contro una roba, che ti apre il culo, che ti sfonda e sfondi un controller. Se tu sbatti la testa dieci volte contro il muro, un motivo ci sta. Cioè, se poi tu continui ancora a sbattare la capoccia, il problema non è il gioco, il problema sei tu che non ti fermi un attimo a capire. Esatto, ti intrippi, cioè ti hype perché dici, ok, quindi sta cosa worka così. Poi capisco che io, raga, ripeto, sotto quel punto di vista sono anche un giocatore molto particolare, perché mi avete visto che io veramente vedo la merda che magari con un'idea ben strutturata ci va da braccetto. Però che cazzo manca a fare l'esatto opposto, oddio madonna. Grazie.